Si chiama voglia di stupire, anzi di non finire mai di stupire. Paolo Andreucci sta vivendo giorni importanti anche perché nel fine settimana che ci attende sarà al via del 35esimo rally duevalli e lotterà con Campedelli e Scandola per quello che in caso di vittoria sarebbe il decimo titolo tricolore di una carriera a dir poco leggendaria. Ma il campione Garfagnino si è anche reso conto che probabilmente per rinnovare e rilanciare la sfida sui baldi interlocutori avrà bisogno in futuro di una macchina più performante che la Peugeot 208 da un po' di tempo mostra la corda. Ed allora ecco che quelle che al momento sono solo indiscrezioni magari fra qualche mese potrebbero diventare ghiotte realtà. Ogni riferimento ai test che proseguono ininterrottamente della nuova Citroen C3 R5 non è affatto casuale. In gran segreto anche il popolare Ucce ha infatti potuto provare la nuova arma del double Chevron a dimostrazione della stretta collaborazione tra Peugeot e Citroen come già aveva annunciato il gruppo PSA. In realtà la motivazione di questo test è ancora ignota ma è sicuro che qualcosa di estremamente appetitoso magari sta bollendo in pentola. Noi la buttiamo là in un giorno di metà ottobre e con il due valli sullo sfondo che possa diventare un binomio vincente nel CIR 2018?